Operazione di bonifica questa mattina alla Scala dei Turchi. A disporle è stato il comune di Realmonte che d'accordo con la Capitaneria di Porto ha provveduto alla bonifica di parte dello specchio d'acqua ai piedi della Scala dei Turchi. Sul posto il comandante in seconda della Capitaneria Daniele Governale, il sindaco di Realmonte Lillo Zicari e il vice sindaco Arcuri. I lavori di bonifica partono dall'esigenza di eliminare una ventina di pali metallici che erano stati collocati abusivamente per essere sfruttati come ormeggi abusivi da imbarcazioni. Le operazioni sono state coordinate dalla Capitaneria di Porto di Portempedocle che ha disposto un cordone di sicurezza e controllo per far sì che le operazioni a cura della ditta incaricata si svolgessero in sicurezza. Sul posto è immortalare le operazioni con un video anche Mare Amico che esprime soddisfazione per il ripristino della legalità nel mare di Realmonte. E poco lontano sono mozzatori al lavoro per riparare la condotta sottomarina di Siculiana. Lo documento in un video sempre l'associazione ambientalista Mare Amico. La condotta si era rotta la scorsa settimana e aveva causato la fuoriuscita di scarichi fognari in mare. Il guasto era stato segnalato dalla stessa associazione. Un indicatore di tale rottura avevano fatto sapere da Mare Amico rappresentato da un numero indescrivibile di pesci che vi girano intorno. Purtroppo a destra di questa rottura vi è la famosa spiaggia di Giallonardo, mentre a ovest si trovano i liti di Siculiana Marina e le spiagge della riserva naturale Torre Salsa. Purtroppo a destra di questa rottura vi è la famosa spiaggia di Giallonardo,